A Monbaroccio il 7 e l'8 maggio torna la festa degli alberi e dei prodotti tipici locali, a riempire le strade dello splendido borgo i migliori florovivaisti del territorio con piante, fiori e spazi dedicati all'artigianato artistico. Quest'anno la trentennale festa degli alberi di Monbaroccio, oltre a cambiare lo storico logo con uno scaturito dall'estro creativo di una luna dell'istituto Pirandello di Pesaro, si presenta in una veste totalmente rinnovata, con laboratori a tema per grandi e piccini ed eccellenze gastronomiche. Ma gli studenti del Pirandello non sono solo gli artefici del nuovo logo, ma daranno vita a una vera e propria creazione che tenterà una scalata al Guinness dei primati. Gessetti colorati alla mano, oltre 200 novelli giomadonnari, disegneranno nella giornata di domani un albero della lunghezza di oltre 194 metri lungo la via principale di Monbaroccio. Una o due giorni tutta dedicata all'ambiente e all'ecologia, quindi un tema sempre molto caro alla provincia di Pesaro che patrocina l'evento Assieme al Comune. Grazie. 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 Grazie.